Intanto grazie di essere qua a Torino che però è diventata la tua città d'adozione. Sì, sì. Vuoi spiegare come mai? No, ma spiega dall'inizio bene. Lo spiego perché siamo in tema del libro, perché la cosa che a me mi ha sempre fatto, mi incolpisce, è la casualità nella vita, che ti si apre un mondo ogni volta. Perché? Cosa c'è? Allora, non mi guardare così. C'entra il circo del lettore, perché io nel 2018 ho fatto il mio primo capolavoro letterario. Certo. Se ne parla ancora. Sì. Anche qua, eh, proprio. E l'ho presentato qua al circo dei lettori, davvero intellettuale, quale io sono. E questo, nel 2018, io ero un felice single, no? Nonostante fossi molto bello e intelligente. Sì, però avevi dei ciupismi in giro. Cosa sono i ciupismi? Cioè, robe. Ma insomma, noi single lo facciamo. La madre, la futura madre di mia figlia, fa una passeggiata in centro per Torino, no? Cioè, lui ha fatto una figlia, eh? Io ho fatto una figlia, lo so. E mentre fa questa passeggiata, invece di prendere via Roma, come forse sarebbe più logico, ci sono i neovolzi, e prende via Boggino, che è questa via qua. Taglia in via Boggino e vede una coda lunghissima. Vede una coda lunghissima perché io smuo le massi. Certo. E dice, ma chi è sto pirla che c'è al circolo delle... Ah, pif! Ah, pif! Mi ricordo di presentare il libro, cosa facciamo? E lo so mica, cioè, proviamo. Fanno la fila e sono le penultime a essere prese. Cioè, c'erano loro, poi l'ultimo e poi, tra l'altro oggi, ho conosciuto la prima a non essere stata presa. Ecco, che magari... Una cosa incredibile. Chissà. E qua tra l'altro, che la conosciamo. Eh, non lo so, non lo so. Magari potevo fare una figlia con lei, che inizia la vita. Vabbè. E già questa cosa mi sembra stata... Poteva ridire, io rimango a casa, no, oggi sono stanco, oppure no, prendiamo via Roma. Insomma, è la cosa... No, si mette in fila per vedere te. Se mi vedete, la cosa è incredibile. Stacco. Stacco? No, aspetta, che cacchio, cosa sei in seminetto? No, no, nel senso che poi io faccio... Lei era... Anche perché ai tempi c'era... Non so se c'erano addirittura due sale. Vabbè, insomma, sta il fatto che... Era prima della pandemia. Era prima della pandemia. Nel 2018, insomma, poi facciamo il firmacoppio e non avevano i soldi. E Nabila dice, ah, non è un peccato, volevo comprarle. L'amica dice, ah, guarda, ho giusto i soldi per... Tutta a cagno, proprio tirannosauro, bacino. Io avrei fatto il signore, insomma, tieni. Eh, ma però... Eh, invece... Insomma, lei compra qualcosa, ci conosciamo. Io ho detto... No, lei si chiama Nabila perché il padre è tunisino, però... Ma è venuto coi barconi? No, no, è l'unico, tra l'altro... No, no, lui è stato passato da Palermo, insomma... Perché poi un'altra cosa è che ha lavorato in un ristorante negli anni Ottanta che abbiamo scoperto è se erano pochi isolati da dove abitavo io. E insomma, Nabila, ora io lo conosco, però per la prima settimana dicevo, ehi, tu, senti, perché non sapevo, Nabila è un nome difficilissimo. Lei mi dice, io dico, come ti chiami? Lei dice, Nabila, io... Nabila, insomma, la sera la cerco su Instagram, però Nab, Nab, non capivo, non mi ricordavo, e insomma ho detto, vabbè, niente. Poi lei mi scrive dopo qualche giorno e nasce Emilia che vive qua a Torino. Ecco, che bella storia. Poi naturalmente vogliamo dire che sarà un tocco di figa spaziale, perché adesso tutta sta roba, il colpo di scena, il colpo di fulmine, eccetera, sembra stato un ragno. Non è brutta, non è brutta. Vabbè, che vuol dire? Eh no, vuol dire, vuol dire. Vabbè, stai fatto che comunque una bella ragazza poteva prendere la parallela e questa cosa mi ha sempre impressionato. Io ho vissuto a Londra negli anni 90, ho fatto la classica esperienza della londinese che poi in parte riportava. Non sono, vi sto raccontando perché insomma c'entrano col libro. Ero andato là a imparare l'inglese. Che non l'hai imparato? Diciamo il mio inglese è posted with saliva, che tradotto in palermitano è attaccato con la sputazza. Cioè proprio non mi entrava. Infatti poi sono tornato in Italia e ho detto, ah beh niente, mia madre era disperata perché mi ricordo che tornai e c'era il film Surviving Picasso e mia madre dall'alto dei miei quattro anni a Londra mi disse, ma cosa vuol dire? E io, vado. Però hai imparato a sturare le docce. Ho imparato a sturare le docce. Infatti il protagonista di questo libro che si chiama Arturo è uno che sa fare poche cose. Però tra cui stura le docce, il re delle docce. Ora tutto questo però la tecnologia delle docce, perché l'altra volta mi si è bloccata la docce, ho detto, ci penso io, e la tecnologia è cambiata, quindi non ho fatto corsi di aggiornamenti. Però se io avessi, mi ero innamorato una ragazza spagnola, se non fosse stata finanzata, ci sarebbero finanzati, mi sarei trasferito. A Madrid avrei detto, mamma la donna è la mia vita. Ma è tutto così, piff. Ma è tutto così, però questa cosa a me mi... Ti impiede. Allora il passaggio successivo qual è? Che la verità è che non esiste l'anima gemella. Babà? Esisto. Ma sai che sei Galimberti siciliano? Esistono le anime gemelle. Pieno? Sì. E' certo. E' il momento. E' il momento, il posto. Che fa l'anima. Esatto, perché magari io posso conoscere una... Dio, se avessi conosciuto una bila, non so, dieci anni fa, non avrei fatto dei figli, perché dieci anni fa era impensabile per me fare dei figli. E' ancora vergine. Avevo soltanto 40 anni. Certo, un bambino. Ti eri appena sviluppato le prime polluzioni notture. Esatto. Allora, perché parliamo di tutte queste cose? Perché questo libro, che tra l'altro è un libro che fa anche molto ridere, racconta proprio questa storia. Cioè parte da questo presupposto che il protagonista, questo Arturo abbastanza sfigato, che in qualche modo ricorda l'autore del libro. Grazie, ottima scelta. Questo Arturo, insomma, cerca l'anima gemella e viene coinvolto in un progetto che fa capo ad una app. Una app che ti... che attraverso l'intelligenza artificiale, l'inserimento di tutta una serie di dati personali, ti dice quali sono le tue sette anime gemelle. Quindi lui va a cercare in giro per il mondo, neanche per l'Italia, per il mondo, le sue anime gemelle. Esatto. Però il fatto che esistono tante anime gemelle, secondo me, non smiduisce una storia d'amore. Anzi, secondo me è più romantica. Certo. Perché tu stai insieme a un'altra persona, nonostante... Cioè, tutte le possibilità. Dovete dire, magari io sono... cioè, sono meno anima gemella di un altro, no? Certo. E questa cosa, secondo me... Quindi lui va in giro per il mondo a cercare queste anime gemelle facendose tutte le pippe mentali, ma se io... Sì, ma non combina niente. Vabbè, non lo dire. Ah, no, scusate. La prima anima gemella si chiede, ma in realtà poi c'è... Vabbè, non facciamo il fine. Nel finale non ve lo raccontiamo, giustamente. Si fa le domande tipo ma se io incontro la prima anima gemella, poi le altre sei le devo incontrare, se mi trovo bene con la prima mi incontro anche le altre... Cosa fareste voi? Se... Io non so... Non so, non sapere cosa fare, entrare nel panico, perché parossalmente il fatto di sapere tutto sulle persone è come dire fai un gol a porta vuota, però mi metterebbe ansia perché c'è la porta vuota e quindi tutti si aspettano il risultato, perché è facile. Invece è proprio... No, però io penserei... Cioè faccio... Scarico questa app mi dice ne provo tre alla quarta e quella e mi fermo. Ti fermi, tu ti fermerai. Penso di fare altre tre. E se le altre sono più anime gemelle... Questo è proprio da pif. Sì. Cioè, però allora... Entrere in tutta questa cosa... Insomma, entrerai nel... Forse non lo vorrei sapere. Però, insomma, questo è il libro. Possiamo andare via. Abbiamo finito... No, poi ovviamente... Poi lui è un citazionista. Sì. Questa è una cosa divertente che secondo me... E tra l'altro anche bellissima che però penso sia roba tu... Cioè proprio tua tua, una tua fissa personale. No, questa è una fissa che vorrei avere ma io non ho memoria e quindi non me ne scordo tutte. Anche se... E allora come le... Perché sono troppo azzeccate. Sì. Cercate. C'avassi celebri. Poglie. No, in realtà c'erano alcune che mi innamoravo così tanto... Che poi scrivevi il pezzo. Che cambiavo la storia perché ci sono alcune... Perché la citazione mi piace perché è un'esperienza di vita che qualcuno condivide con te. Ma certo. E questa cosa... Poi certe volte dicono tutto il contrario di tutto. Poi la devi personalizzare. Però ci sono alcune molto, 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 molto belle. Io non mi ricordo nessuna. Io? No, per esempio... Una del mio collega scrittore Hermanesse... Un becil. Che non so se è venuta a presentare i libri qua. Diceva una cosa che... Perché poi in realtà questo... Allora, la mia crisi... Guarda, per esempio il primo. Mark Twain. Preoccuparsi per qualcosa è come pagare interessi su un debito che non sei nemmeno certo d'avere. Che gli devi dire a Mark Twain? Ma che cacca. Che gli devi dire? Eh no, infatti. Grande saggezza. Hermanesse diceva che ogni storia d'amore ha la sua tragicità ma non è... Questo non è abbastanza per smettere di amare. Questa cosa è un... È un vero perché io ho vissuto le storie d'amore un po' come un problema. Ma tu sei un problema. Forse per questo. Cioè nel senso che poi sono dei problemi nel senso che la vita... Cioè il problema non fanno le app per farci incontrare. Dovrebbero fare un app per continuare a avere rapporto. Perché in relazione... Cioè vivere con un'altra persona è difficile. Ma sai che cosa leggevo? Leggevo che in realtà nelle storie d'amore è importante la narrazione. Cioè fin quanto dura fin quando dura la narrazione nella coppia. Cioè io ti racconto di me e tu mi racconti di te la coppia funziona. Poi a un certo punto quando hai finito di raccontarti eh non è più niente da dire. Quindi finisce la storia d'amore. E quindi può essere che magari ti innamori o guardi qualcun altro magari non tanto per il sesso quanto perché ricominci a narrarti. Perché l'inizio è sempre bello è tutto magico. Sì ti devi raccontare. Insomma è un gran cassino però quando sei grande come me di nuovo da capo il riassunto delle puntate precedenti eh che due pali. E lì partono i gatti ti innamori dei gatti. No la verità è che è difficile la storia d'amore è difficile. E io confesso che che l'imbarazzo di presentare questo libro è che di solito ho fatto sempre film o programmi televisivi o libri accusando qualcuno indicando il dito. Stavi all'opposizione. Non c'è la mafia non c'è non ci sono non ci sono non ci sono non ci sono i cattivi e questa cosa è un po' anche perché sono l'uomo meno romantico del mondo quindi ho scritto Sai che non stento a crederci? Sì non l'avresti mai detto e perché un'altra cosa faccio delle considerazioni a qualcuno e dire vabbè ci siamo arrivati a 50 anni perché per esempio una storia importante che ho avuto è finita perché ho capito che per me io non dicevo ti amo perché per me diciamo vabbè stiamo insieme ovvio se te lo diceva lei tu dicevi idem sì no esatto esatto questa cosa le donne non apprezzano questa frase non c'è bisogno che ti dica ti amo invece il problema appunto il problema non è conoscere persone il problema è solo l'inizio di questa cosa e quindi ho un po' un imbarazzo nel parlare di infatti a un certo punto parlerò di Totorina così ma che c'è in droga perché ho bisogno del nemico però è bello perché ti sei misurato con una cosa che è nuova per te perché comunque c'erano sempre dei racconti partivi sempre da dati di realtà il primo libro prendevo in giro criticavo il modo di essere religioso di noi italiani che è un po' tra l'allero tra l'allà poi non sono non sono romantico se tu sei religioso dici ah io ho incontrato la mia donna perché Dio ci ha voluto così no io non so neanche al massimo tocco l'essere agnostico c'è non c'è buh parliamone questo è il mio approccio quindi per me due persone che si incontrano non è Dio e allora come mai ti sei imbarcato in un'impresa così ma infatti me lo chiedo pure io ma perché lo scrivo questi libri ma perché mi faccio prendere all'entusiasmo perché ho scritto il primo libro il primo la Feltrelli mi sono giustificato la Feltrelli Gianluca Foglio mi chiamo e dice scriviamo un libro e ho detto ah sì faccio il dito le quinte delle iene la paraculata sì e lei ha fatto no facciamo un libro vero un racconto vero e allora mi è venuta in mente quella storia delle poi mentre stai scrivendo dici ma chi me l'ha fatto fare ma è difficilissimo scrivere un libro poi esce e vedere gente che ha il tuo libro in mano mi commuove oggi ho fatto il giro delle librerie minori no questa è una libreria posso parlare bene no comunque la parte che Torino è mi diceva qualche anno fa che era la libreria la città la seconda città dopo Parigi con più librerie in città è una cosa certo il numero di bar che ci sono a Torino supera le librerie ho riciclaggio di terreno sporco ma non è possibile perché ci sono un sacco di bar poi per i parametri palermitani alcuni un po' costosini l'altra volta ho preso un cornetto e una spremuta a 7 euro beh ma a Milano molto di più non lo so ma per farti capire i parametri palermitani torinesi lei ha detto un cornetto o la crema lei sta prendendo uno e ha detto no e ho detto la palermitana quello grande e lui ha detto questo è quello grande e ho detto ma quello piccolo qual è? quello ma capisci la pesantezza porca miseria e no mi devo abituare perché io ormai sono un turinese poi allora per essere un buon turinese devi parlare male di Milano di Milano non da Milano non volevo e devi dire appena criticano Torino devi dire noi abbiamo inventato i grissini il cinema la tv la macchina Macario la? Macario è stato Macario 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 la cioccolata i tramezzini ogni volta aumenta sta lista la radio però Milano ci ha fregato tutto questa è la chiusa compresi i tramezzini io direi scusate la nuvola del bar la vazza no no la nuvola ah la nuvola di Gigo cioè poi il sangue si ferma perché non riesce più a passare però quello devo dire è buonissimo e poi parlare male di Milano ho detto questo no poi ha torronato tutta la cena su come posteggiamo noi in centro scusate 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 non c'entra niente col libro però siccome sono un torinese no non sei un torinese abiti a Milano quindi ci sono delle estrade a Torino dove si lasciano le macchine in mezzo alla strada che secondo me se a Napoli direbbero no è troppo è troppo cioè tutto perfetto tutto rigidissimo però la macchina in mezzo alla strada ma neanche a Palermo ma perché non possiamo posteggiare e quando lo dico a un torinese non è che dice effettivamente in strada ma beh ma dove posteggio cioè è una cosa che non ha senso ma perché prima mi diceva no perché voi posteggiate in mezzo alla strada ma non dico ma dove posteggiate in mezzo alla strada tu posteggiate in mezzo alla strada e negano poi dico là ma no perché non avevo capito per esempio davanti al cinema Mars i fratelli Mars c'è la striscia di mezzeria e noi posteggiamo a cavallo perché lì non puoi posteggiare non ce n'è neanche ma non capisci che non ha senso ma cosa vuoi da me ma ti sei trasferito a Torino e io praticamente ormai si sto adattando e poi aspetta c'è un'altra cosa che sto dicendo che una volta mi hanno detto questo non c'entra niente con il libro però ormai tutto ciò perché me l'hai fatto leggere no e chiudo no perché è tutto collegato libro circoli lettori Nabila Emilia cioè per me è tutto collegato che una volta Nabila mi dice ti faccio assaggiare la granita e io dico vabbè la granita di torre eh amore di cosa stiamo parlando ma guarda non volevo non gli dovevo dare soddisfazione ma è clamorosamente buona perché noi le cose quando le facciamo le facciamo bene tra l'altro posso dire qua l'abbiamo inventata noi di Torino la granita diciamo poi la Sicilia ce l'ha rubata in corso Reggio Parco dov'è quel posto però in realtà Arturo in qualche modo se io non ci ho pensato Arturo è il protagonista il protagonista in realtà non ci ho pensato però ci poterà stare si potrebbe indamorare un ragazzo di Torino e avrebbe inventato perché la fatica del povero Arturo è che va in Svezia e cerca di no allora perché se no la gente poi non capisce perché non l'ha ancora letto e lo leggerà perché poi oltretutto costa anche poco quanto costa ma neanche dato il 18 euro però no dai 18 euro a Torino a Palermo mettono in faccia il 18 euro adesso perché a Palermo non hanno 18 euro per comprare un libro comunque insomma in questa app che secondo me lui questo libro l'ha scritto perché poi vuole farci un film ovviamente ma io scrivo solo soggetti di film perché la cosa è che io scrivo un libro perché questo qua questo Arturo va a cercare questi anime gimele ma va in Svezia in Groenlandia quando siamo arrivati in Groenlandia ho detto sta merda che adesso la fa andare in Groenlandia perché io so già che adesso aspetta il produttore che ci paga il libro in Groenlandia non posso cambiare quindi va a cercare e si deve adattare tutte le volte ai costumi e alle mentalità di queste donne che vivono in posti diversi e anche quello è divertente che non c'è bisogno di andare molto lontano c'è una città che si chiama Siena ecco che inizia con Siena che incomincia con Siena e lui si innamora una delle sette anime e Silvia è da Siena e quindi lui va a Siena solo che Siena è un mondo parallelo perché tu non ti finanziare ti finanzi con una di Siena ti finanzi con una di Siena e la sua contrada sì e lui il protagonista essendo un pallista clamoroso perché non quasi come se non avesse un'identità che tutte le volte se la deve costruire rispecchiandosi sull'altra persona sulla donna che deve conquistare si inventa delle cose assurde e a volte non ha la fantasia e quindi racconta delle trame che sono prese da dei film tipo dai ponti di Madison County esatto dicendo ah perché un mio nonno mi teneva sulle ginocchia e mi diceva che essere indomato in una contraria e era para para la trama questa la vi sto bruciando vabbè la trama che l'avevo letto tipo l'avevo visto il film un giorno prima certo ma lo so perché tu sei come le casalinghe di Voghera quando aprono il frigo che fanno le polpette mettono tutto esatto no tra l'altro ti dirò di più io tutte perché sono andato va in Groenlandia perché io ho fatto facendo quel programma il testimone che vado in giro per il mondo ho detto se il programista deve andare in giro per il mondo va dove sono andato io così ma a certe volte proprio andavo a rivedere la puntata perché non mi ricordavo io ormai sono il re ma quindi scusami in Groenlandia ci sono i bue muschiati i bue muschiati non l'ho mai visti però esistono esistono perché vedi le pellicce ah ecco poi ci sono vabbè però è paro nel senso sono andate in un posto dove ci sono 50 persone sperdute si va in che quando è inverno è tutto ghiacciato cioè tu arrivi c'è una scaletta e c'è un c'è una scaletta dove? per salire nel cioè tipo quando vai a Lampedusa che arrivi con la barca quella è l'entrata del paese poi c'è una palazzina di un piano un piano terreno in realtà e c'è un supermercato ma questo è un quarto di questa stanza e questo è il supermercato avendo le camicie il mangiare tutto poi c'è una posta che è pure banca basta cioè quello è il centro commerciale del paese e lì c'è tu io ho detto ma se tipo visto che siete in 50 siete sperduti uno può prendere tutto il latte no prendevo tutto non gli frega niente e vivono in 50 c'è una scuola la chiesa un cimitero fine e poi c'è quindi un'esperienza che non potevo abbintarlo in Groenlandia se non ci fosse stare certo però a me la cosa che mi ha fatto più ridere in assoluto svegliamola un pochino che a un certo punto lui va a incontrare un'anima gemella a Lecce che fa la cantante quindi assiste a questo concerto e questa è abbastanza stonata e quindi c'è tutta la sua riflessione sul fatto che come si fa a innamorarsi di una persona che magari è anche bella affascinante ti piace però non ha talento e vuole fare la cantante e vuole fare la cantante ma questo devo dire che è il mio il mio crucio nel senso poi magari sono esagerato ma una volta vabbè non posso dire i nomi però con Fabio Fazio ho detto ah mi piace tanto quella ragazza poi vado a vedere su internet sulla pagina facebook che lei non ha detto ah io ho la passione per il canto voglio fare la cantante ho detto figo mi piace perché io poi no perché io poi parto non me lo dici no poi non è famosa perché ma era della redazione no perché poi io una cosa che metto nel film nel libro che conosco una ragazza tipo io sono di Lecce e io mi già penso vabbè posso comprare il carnet di Trenitalia faccio Roma cioè mi proietto come se avessi no capisci cioè questo libro è una lunga seduta d'analisi fossi andato in analisi non avresti rocce coglioni a noi capisci però è capitato insomma mi innamoro mi piace tanto vado sulla pagina facebook sento i suoi concerti un disastro come si fa come si fa come fai a stare con una persona che crede di essere brava a fare qualcosa non lo è e tu cioè dovresti finanziarle e dire certo ma perché non fai la manager dei cantanti cioè è brutto cioè io non stimo improvvisualmente una persona non riesco a starci ma no ma certo però c'è qualcuno che mi ha detto che sono esagerato no no io sono come te cioè non puoi perché il compagno deve sostenere ci deve credere sì però è pieno di artisti incompresi che non li comprendono perché non c'è niente da capire non è per una ingiustizia divina per una giustizia divina sì e quindi lui vabbè questo ci sono bruciati mancano altre sei però insomma vabbè no e poi un'altra cosa che mi ha fatto ridere è che Arturo ha la tendenza alla carrettella voi sapete cos'è la carrettella noi non lo sappiamo la piemontese quindi può spiegare vabbè non lo sai cos'è la carrettella no qualcuno sa cos'è la carrettella forse no che lui ha sempre questa la carrettella me l'ha spiegato un attore di un posto al sole quindi già una roba ti prego no vabbè no perché perché ho fatto una puntata per il testimone tra l'altro io faccio una parte di un posto al sole bene hai fatto bene a dircelo che già non lo vedevamo adesso proprio ti prego ti prego se incontriamo click ti prego è il Rai 3 no è vero molti lo vedono perché è incredibile la vera cosa il vero mistero della fede se esiste così tanto vuol dire un posto al sole su Rai 3 questa cosa clamorosa questa città su Rai 3 perché no ho fatto una puntata e poi ho chiesto di fare il cameo e c'è l'hotel no al bar Vesuvio il bar del posso al sole c'è una puntata in cui entro e dico un chinotto bellissimo e ho conosciuto un attore perché molti vengono dal teatro e dico la carretella è quella che tu cioè l'attore ha tutta una parte e poi mentre sta prima di andare via fa una battuta finale per 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 cogliere l'applauso che è una cosa odiosissima perché Romini un po' è Arturo che ha questa questa amante delle citazioni sbaglia soprattutto con Olivia che è un altro personaggio importante del racconto perché non fa parte delle sette anime gemelle però lui sente qualcosa quindi lui fa la citazione giusta tutto perfetto e poi ah perché lui vabbè ma non raccontarlo è complicatissimo se no guarda in che stato perché lei lei lavora alla mensa bastava una terapia breve di qualche lui paga paga sempre col beige la invita a cena la sera e lui fa la citazione giusta mentre sta andando via dice comunque questa sera questa sera a cena pagherò in contanti e se ne va pensando però questa cosa ha pensato che volevo pagarla insomma è la carretella ecco io però la carretella funziona invece lui fa delle carretelle che non funzionano perché è la cosa peggiore la carretella non funziona è la cosa peggiore vabbè tu sapevi cos'è la carretella vogli attori ma no ma perché io non sono un attrice di teatro è più una cosa di teatro la carretella e quindi però a un certo punto c'è anche il Gianfranco che è quello che si è inventato l'app che spiega in sintesi come vanno le storie d'amore a pagina ma te lo dico sì ma non sono segnato aspettane 210 ma ha detto quando è arrivato mi ha detto stamattina ho messo la sveglia per finire il tuo libro eh ma certo così perché io non mi piaceva leggere allora dice allora si rivolge ad Arturo e gli dice ma perché vivi il rapporto amoroso come fosse un problema i tuoi occhi sembravano i suoi occhi sembravano sinceri forse per la prima volta da quando ci conoscevamo e dice l'amore è un fatto della vita ed essendoci degli esseri umani in mezzo porterà inevitabilmente delle discussioni delle incomprensioni dei litigi delle riappacificazioni dei compromessi e delle rotture fa parte della vita vivere un rapporto d'amore come un problema vuol dire vivere la vita come un problema e ti dirò di più John Maresi che è il cognome puoi pensare di trovare un equilibrio una serenità con qualcuno ma sappi che non potrà essere per sempre come vorresti tu perché la gente cambia cresce e cambia oggi stai con una persona che tra dieci anni potrà essere un'altra o forse tu sarai un altro e forse non vi prenderete più magari se l'avessi incontrata dieci anni dopo o prima non ti saresti innamorato o lei non si sarebbe innamorata di te e tu cosa puoi fare? vuoi protestare? vuoi lamentarti perché i patti iniziali non erano quelli? non rimane che lavorarci sopra fino a quando ha ancora un senso e se il senso non c'è più non hai perso del tempo se è stata una bella storia d'amore vivi la vita invece di chiederti continuamente cosa c'è dietro l'angolo o peggio ancora cosa ci sarebbe stato se avessi girato quell'angolo ma puoi vivere così mentre passi il tempo a ragionare sul perché e sul per come nel frattempo la vita sarà finita ecco è tutto quello che ho capito già 50 anni c'è una pagina e mezza io lo so potevo scrivere solo questo ah tu dici è una capita 50 anni sì tant'è che ho scritto un libro sì e ho dovuto scrivere tutto un contorno perché una paginetta non aveva senso però è così sull'impermanenza delle cose sì nel senso che questa è una cosa che è una cosa banale perché tutti ce lo diciamo però la difficoltà è farlo praticarlo nella vita ma poi non ti viene in mente di dire ma io sono stata con quello lì cioè io mi sono innamorata di quel perla non ti viene c'è qualcosa di autobiografia no però però invece in quel momento lì era giusto che ti innamorassi di quella persona lì ed è stata anche bella quella storia lì in quel momento lì e poi dopo magari è un'altra storia è un'altra ancora e e quindi però col passare del tempo adesso tu sei ancora giovane ma col passare del tempo poi cioè non sei più portato per i compromessi mentre quando sei più giovane dici va bene ma adesso poi cambierà vediamo c'è tempo quando sei più grande non c'hai più quella roba lì non ci credi più nel cambiamento vero però come dice Gianfranco va anche bene così va bene così si è tutto va bene poi appunto poi bisogna provarsi bisogna provarsi per questo dico però quando poi finisce comunque finiscono tutti ilari cioè magari anche loro avevano cioè stavano bene si amavano a posto avevano interessi in comune la Roma i Rolex le borse di Gucci eccetera poi improvvisamente è c'è stato un crash e ciao è finito no non ci neanche ricchi piangono diciamo succede a tutti diciamo che l'amore su questo è trasversale nel senso che non certo i soldi complicano probabilmente non lo so o migliorano dipende perché se ci sono delle coppie che fanno fatica a tirare avanti ti assicuro che anche quello non aiuta no è vero è vero è vero nel senso che con i soldi si piange con un occhio solo ecco tendensalmente però è vero però è veramente per questo questo lo dico lo brucio dare una definizione all'amore è inutile perché così ci sono tante così chi mi avrebbe tutto dire che devo qui a parlare dell'amore scusa poi posso parlare di totorina così giusto per ritornare il pif di una volta cioè e ci sono così tante variabili che io appunto a 50 anni dico vabbè oh mi arrendo quello che succede succede tanto hai fatto una figlia bellissima una figlia bellissima purtroppo femmina eh perché perché il primo giorno dell'adolescenza lei dirà papà è il primo giorno dell'adolescenza e io dirò non ne so niente parla con mamma perché io non capisco niente questa è la prima cosa che ho pensato quindi già ti sfili mi sfilo poi le adesso ha due anni e ti sfili già adesso no non la ti sfilo no però io la chiamo sore Emilia perché così entra in testa il fatto che entra in convento e quindi dirò parla con la madre superiore io non so niente però siccome non voglio passare per un papà no perché esiste il convento scegliere a lei le faccio vedere la mappa pensa come sono contenti i tuoi genitori mi raccontavi sua mamma fa molto ridere no vuole la foto del giorno ci vuole una o più foto di Emilia quindi io certe volte non ce la faccio sconfesso che faccio una foto con la parete blu poi una foto con la parete bianca così le spaccio per due momenti diversi in due giorni diversi perché lei sta a Palermo e quindi questa cosa che cresce non la può sopportare quindi ma la cosa fa Emilia e tu Emilia ha mangiato ha fatto la popò ha fatto questo detto questo volevo proporre è che il circolo che l'elettore è così bello che mette siccome per tornare al discorso della casualità per farvi capire che non è una cosa solo mia c'è qualcuno disposto a raccontare una storia d'amore nata per una apparente evidente casualità anche da voi dall'altra parte che avete voi poveri dall'altra parte non c'è neanche riscaldamento eh già pensateci andiamo avanti però pensateci ho letto tu puoi raccontare un fatto della tua vita no ti racconto di questa tipa qua giapponese che ho letto in questi giorni che adesso sui social ahimè abbiamo visto anche la storia delle Iene complicatissima e dolorosissima comunque sui social spesso ti innamori perché ti innamori magari di persone che non esistono no che si spacciano per altro questa tipa giapponese eh si innamora di uno che le dice che fa l'astronauta e che sta l'hai letto? nella stazione spaziale internazionale cioè praticamente con la Cristoforetti e lei e lei ci sta e lo segue lei fa dichiarazioni d'amore scrive mail eccetera eccetera poi a un certo punto dice ma io non ti voglio assolutamente e lei dice ma io ho bisogno di tornare ho bisogno di un razzo per avere un razzo devi darmi trentamila euro e sta poveretta sgancia trentamila euro perché l'altro la convince che l'unico modo per staccarsi dalla sezione spaziale internazionale è venire sulla terra e prendersi un razzo sai non c'è il freak bus lì e tutti e così e l'altra paga e in questo articolo che leggevo diceva che molti si inventano di essere dei viaggiatori eh di fare i rappresentanti quindi sempre in giro per il mondo che hanno difficoltà a tornare a casa perché magari non hanno liquidità e quindi si fanno dare i soldi è un segnale drammatico nel senso anche forse una carenza di amore ma scherzi poi è anche vero che quando sei innamorato il tuo amico ti aiuta perché è lucido io ho amici che sono di ottimi consiglieri infatti di amore lucidissimi però poi quando sei innamorato fanno delle minchiate caromorose ma tu non eri quello che mi aveva dato dei consigli perché la verità è che quando tu sei coinvolto fai delle minchiate sei un povero idiota come dice Pavese le strategie le usi soltanto se non sei innamorato esatto Pavese è uno scrittore che è Peltrinelli credo ma l'hai citato tu Babione sì le strategie amorose le adatte come diceva Pavese le agisci come diceva Pavese adesso te lo dico eh litizzetto non mi hai studiato Pavese ma no l'avevo scritto già che mi cacchio però vuol dire quello cioè le strategie le fai quando non sei innamorato esatto e quando sei innamorato non c'hai tutte queste strategie fai tipo sbagli i tempi sapendo di sbagliare tipo quando lei pensi di aver fatto una gaffa con la ragazza con il ragazzo e voi chiama subito un amico ma t'ha chiamato cioè tempi tutti sbagliati per sapere e ti incogionisci tendenzialmente no non l'avevo scritto va bene va bene no perché ci sono una serie di citazioni molto belle ma non mi ricordo no una della Dietrich che diceva l'amore finisce quando tu dici al tuo marito torno per le sette e lui tu non torni e lui alle nove ancora non ha chiamato la polizia questa era molto bella che effettivamente poi la verità che anche Hemingway dice due o tre cose quando me ne ha dette più di due o tre no sì no nel nel film nel libro che cito una però che la verità che ci sono alcune che che proprio si vede proprio l'esperienza la vita di Hemingway che non era proprio il papà che aspettava la figlia fuori da scuola ecco se c'era era tipo con un pesce spada un pezzo di la testa di toro poi Jim Morrison è meglio una fine disperata che una disperazione senza fine ecco tutti i casi perché che ha detto Jim Morrison e poi nella realtà non sei Jim Morrison questa è la vita però però è uno che Kierkegaard la felicità è una porta che si apre dall'interno per aprirla bisogna umilmente fare un passo indietro vedi tu apri il libro ci sono citazioni meravigliose che non hai scritto tu no infatti sono le cose più belle no perché in realtà Schopenhauer la vita umana è come un pendolo che oscilla incessantemente tra noia e dolore con intervalli fugaci e per di più illusori di piacere e gioia l'ottimista di quel simpaticone di Schopenhauer che tra l'altro confesso che l'ho studiato che lui odiava Hegel sì è bella quella storia lì e allora siccome l'odiamo così tanto che tenevano lezioni all'università tutte e due Schopenhauer organizza le sue lezioni le programma contemporanei a Hegel solo che all'inizio Hegel vince perché Schopenhauer era un pessimista e insomma all'inizio ci vanno in pochi ma fedeli e poi sembra che anche quelli si sono andati cioè stiamo parlando di Schopenhauer certo tu pensa no io preferisco Hegel e Schopenhauer è un cazzone e però il fatto che dietro c'è proprio un'esperienza di vita a me le citazioni devo dire che piacciono quelle sono storie carine che puoi riciclare nei libri poi la cosa bella delle situazioni che nessuno va a controllare la paternità Orson Welles nasciamo soli viviamo soli moriamo soli solo attraverso l'amore e l'amicizia possiamo crearci l'illusione di un momento che non sia di solitudine questo è un po' da cioccolatino e poi sì sono tutti da cioccolatino però se tu sai che chi l'ha detto che probabilmente l'ha vissuto veramente è un'altra cosa perché se no sono le frasi da Facebook che un classico è l'importante è rialzarsi dopo esserse caduti sì questa è una cagata bravo 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 l'inchione però detta così questa però è bella Kafka le domande che non si rispondono da sé sul nascere non avranno mai risposta esatto stiamo assumendo il tono da Perugina Maria Stardua Maria Stardua Maria Stuarda basta lacrime è ora di pensare alla vendetta bella e che devi dire quella l'ha fatto no questa è la cosa figa che se lo dico io anche questa è molto bella Aristotele diceva la natura non fa nulla di inutile però le cimici e Gasparri che gli devi dire perché non ha conosciuto Giovanardi non c'era ancora quando c'era Aristotele vabbè però ho scoperto che c'è il fratello di Giovanardi che è il genio di famiglia il fratello di Giovanardi sì vabbè lasciamo perdere lasciamo perdere perché ho già l'altro che mi sta alle calcare perché ci siamo in diretta Giovanardi si faceva per scherzare la Letizetto che è una comica sai cosa ha detto l'ultima volta Gasparri ha detto la Letizetto è una comica deve occuparsi di stracci per la polvere ah ma perché tu fai lo spot perché sì perché avevo parlato della 194 e lui ha risposto perché io devo occuparmi di stracce della polva io posso confessare una cosa lo saprà Gasparri che una volta ho preso ho preso faccio Palermo Palermo Roma Palermo fortunatamente avevo il berretto entro quando avevo l'Italia c'era l'Italia non so ero sempre in prima fila facevo il cicchino in prima fila non so perché adesso Ita mi dico guarda c'ho il 31C perché piuttosto sono finiti purtroppo io le darei la coda ah beh mi siedo e il treme quando non so se tu hai questo terrore perché tu prendi le prime file c'è sempre il politico ah no io non ho quel timore io l'incubo è di incontrare Cuffano piuttosto mi getto apro il portellone e dico affanculo mi getto e insomma entro tutta una fila mi siedo col cappello mi giro e con la coda e l'occhio vedo Gasparri Gasparri ha fatto no che cazzo ora faccio mi alzo vado dalla hostess e dico guardi io vorrei un posto in fondo tanto per non farti notare no no l'hostess questo è un tempo comico meraviglioso ha detto perché poi ha guardato Gasparri ah capisco ma no ora detto questo Gasparri è un ottimo professionista della politica no dico lascia perdere se lo votano qualcuno io lo rispetto però io proprio con Gasparri non ce la faccio è proprio il mondo no ma te invece quando sali sull'aereo non ti viene mai da pensare quando c'è uno famoso così tipo Gasparri pensa se cade l'aereo il titolo domani sul giornale è l'ittizzetto e Gasparri sull'aereo che precipita cioè che tu devi dividere il titolo del giornale questo è quello pensa che bello ma questo non ce l'ho pensato tra l'altro Gasparri ha la scorta eh ma certo tutti i politici ha la scorta pensa che una volta lui aveva detto se io fossi il papà della l'ittizzetto mi suiciderei no ma la caratteristica di Gasparri giusto per ciao Maurizio che lui ti offende in maniera violenta anche Conficare Piccone disse una cosa tremenda se tu lo denunci lo quereli lui ha l'immunità parlamentare eh certo ma quante volte io ho pagato ho pagato avendo vinto perché hanno l'immunità parlamentare quindi pago le spese processuali anche dell'altro questa cosa è una cosa allontana al mondo della politica perché l'immunità parlamentare aveva un senso dopo il fascismo quindi nasce l'idea dell'immunità parlamentare perché perché venivano da vent'anni di dittatura ma adesso se c'è il San Gasparri perché ma perché su un libro che parla di storia d'amore stiamo finiti a parlare di Gasparri va bene infatti torniamo a noi però non c'è nessuno che mi parla l'altra volta c'è stata una a Roma quando ho fatto un'ottima presentazione con Francesco Piccolo a livello molto più alto è Francesco Piccolo tutte le sue amanti nel libro dice che le trova nei paraggi se va nel quartiere che al massimo cambia quartiere non va in Groenlandia no ma lui vabbè lui era quello che l'abbiamo messo nel film e interpreto questa parte che lui è inventata ma se non è vera anzi no lui non ha che lui si finanza con una ragazza però all'inizio l'amore questa donna abita al di là del casello ferroviario si si è nel libro e quindi all'inizio tin 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 dice eh vabbè ci pomicciamo poi alla lunga l'amore finisce e il treno dice quindi io dice entravo la lasciavo al volo neanche prima era tipo la lasciavo sotto casa amore ci vediamo con la paura del treno tipo così e quindi lei dice ma perché mi hai lasciato no è una storia troppo e quindi cercava soltanto finanzate nei paraggi ma io ci ho pensato piccolo però poi il vecchio amore ritorna perché legge sul giornale che hanno hanno levato il casello e c'era un svincolo ma io ti amo ti ho sempre amato lui finge che l'abbia fatto per per un un personaggio in fantasia ma temo che sia vero però a Roma c'era una coppia che diceva io noi due ci siamo conosciuti perché è una festa di compleanno io dovevo andare a fare pilates non ci sono andata vabbè vado a questa festa di compleanno incontro lui tra l'altro lei era pure finanzata e no e mi sono e niente ora stiamo insieme invece la stessa cosa dai vieni a questa festa vedrai che conoscerò quel qua mi sono presa il covid per dire già pensa se non fossi andata cosa si prende esatto e ci hai fatto un figlio col covid vabbè insomma scusate la banalità però a me questa cosa mi sconvole beh ma nessuno di voi ha una storia così da raccontare di insomma innamoramento colpo di fulmine inaspettato imprevisto tutte robe tutto normale Eliana Monti no guarda aspetta guarda faccio un esperimento eh aiuto non so se mi viene il primo che mi capa guarda che c'è un gradino tu tu sei sposato no sei fidanzato eh vabbè proprio la sfiga siete una coppia voi no una coppia voi due vabbè sembra che ti stiamo sparando allora come vi siete conosciuti eravamo amici eh poi ok erano amici la tristezza vabbè però com'è nata l'amicizia allora io ero fidanzata con un altro ragazzo abbiamo fatto un'uscita tutti insieme e poi dopo anni io ho lasciato quest'altro ragazzo e mi sono messa insieme dopo anni eh sì ok però quel giorno in cui hai conosciuto lui avevi un'alternativa cosa no ho pensato che era un pirla non lo volevo vedere ecco no ma guarda che tante volte succede così eh io tante volte mi sono innamorata poi dopo di persone che pensavo che fossero dei deficienti poi mi sono innamorata poi ho capito che erano deficienti vabbè non è il vostro caso era l'edizietta un po' così vabbè però magari quel giorno dovevi fare qualcos'altro in quel giorno in realtà io non dovevo uscire c'era un mio ragazzo che ha detto vieni ti faccio incontrare i miei amici e ho visto lui però ho detto vabbè ma poveraccio il tuo ex quindi cioè il tuo ex ha detto vieni che ci divertiamo e tu hai conosciuto il suo futuro quello che ha sostituito lui tante volte succede vedi la vita la vita se lui si fosse fatto infatti quindi all'inizio non è cosa è successo che vi ha fatto e poi dopo ho scoperto che non era poi così pirla lo faceva soltanto e l'alcol alla fine è quello e tu quella sera dovevi fare altro no io quella sera stavo bevendo quindi mi ha beccato nella peggiore delle situazioni proprio è capitato vabbè allora tranquillo ma con la mascherina non ti avevo riconosciuto eh no no ti siamo conosciuti vedendo un film profetico che fine ha fatto Baby Jane ma basta ma se ne andate al cinema assieme cosa è successo sono stato quasi incastrato sua cugina sua cugina aveva legato con il fidanzato e ha combinato ad andare al cinema con lei poi riappacificato il fidanzato allora disperatamente trovare un terzo una roba da matti ma senti te abbiamo già combinato al posto del fidanzato ad andare con Laura finora a trovare uno che Atrio del cinema Lux chi ha rapito Baby Jane un film e finora a fatto Baby Jane un film d'amore chi ha rapito e così è cominciato a 55 anni 55 anni ma applauso soprattutto per la moglie se non ci fosse stato quel litigio magari non sarebbe successo allora lo so è una cretina da me questa cosa mi sconvolge che basta andare a destra invece a sinistra oggi va meglio andare a destra però dico basta un cambiare strada e questa cosa che a me non lo so forse sono troppo sensibile sono un artista ho bisogno delle mie contraddizioni delle mie fragilità sei un grumo una poltiglia di contraddizioni grazie volete fare delle domande a questo essere umano un po' strampalato eccola là qui guarda abbiamo speso tutti i soldi per lei non abbiamo microfono perché ah ecco non è vero non è vero ragazzi qui e in mezzo adesso facciamo come la torcia olimpica ah no c'è un'altra ragione mi sente sì dopo allora a dicembre 2018 io ero una studentessa triennale a Siena e lei aveva presentato che Dio perdona a tutti sì e si era autodefinito anaffettivo con producendo un effetto comico involontario visto che avevamo tutti a ridere quando lei invece l'aveva detta come definizione proprio del suo carattere sì sì lo dico ora la ritrovo qui anch'io come sono come lei nel caso nella casualità nel 2022 con un titolo che però non è anaffettivo quindi cos'è successo nel mentre ad Arturo e un po' anche a lei ma non lo so ma infatti io mi trovo in serio imbarazzo nel parlare di una cosa dove non si parla dove non accuso nessuno è strano c'è un mio amico Michele Astore con cui faccio radio e scrivo film a che tu conosci che mi dice è la paternità il fatto che sei più morbido secondo me è stata sia la paternità e sia il fatto di avere 50 anni perché effettivamente ha 50 anni scavalli insomma a me psicologente è stata una botta ti fai un po' tiri le file esatto credo questo ma ripeto è molto imbarazzante il fatto l'idea che faccio un libro con i curicini è una cosa che non avrebbero che se mi avessero detto 5 no ma infatti io quando ho iniziato a leggere ho detto che è strano che è una roba che è proprio lontana però ti sei comunque misurato con una cosa diversa sì sì ma infatti c'è un'evoluzione dal punto di vista economico c'era un disastro economico gli avvocati e i rafferci mi denunceranno però con tutte le mafie che ci sono al mondo perché parlare dall'amore c'era un'altra tra l'altro ho fatto una gaff perché? dall'abortone vabbè intanto grazie ad entrambi per stasera Torino apprezzo particolarmente ma perché incontri i dibattiti letterari dei libri l'hai inventato a Torino una certa caratura tra l'altro la prossima volta che verrai avremo inventato altre dieci cose all'incirca la lista ci allunga la mia domanda è da trentenne con un'esperienza bruttissima e plurima sulle app di dating mi chiedo l'idea di questo libro e dell'incontro tramite app ti è venuta perché hai sperimentato le app o te ne hanno parlato no in realtà mi sembrava un escamotage no in realtà non lo farei un po' ora non lo farei perché facendo questo lavoro mi imbarazzerebbe come quando mia madre dice prenditi per andare all'aeroporto prenditi il taxi il sharing taxi lo sai quelle che sono hai mai l'idea di entrare in un taxi e tutti ti guardano e io salve e diciamo è pif questa cosa mi imbarazzia figurati una puntata se non avessi fatto sto lavoro però sarebbe stata molto imbarazzante quindi non l'avrei mai fatto però io posso sbagliarmi l'algoritmo sul lavoro è una cosa ci ho fatto un film no? che è da condannare però l'algoritmo l'app sull'incontro non mi sembra cioè alla fine l'amico che ti dice oh ieri ho conosciuto una persona che secondo me fa per te una sorta di algoritmo umano non mi sembra sì adesso per esempio Tinder sui ragazzi è usatissimo ma anche i ragazzi giovani ventenni adolescenti che è proprio anche di chiacchiera non è sessuale come no so poi ci sarà il lato degenerativo questo non lo so però così non mi sembra certo perché alla fine l'app ti fa incontrare però poi l'incontro lo devi fare poi alla fine è appunto importante chi incontri non come lo incontri però su questo posso sbagliarmi anche perché hai fatto una premessa esatto hai fatto una premessa devastante quindi io forse mi sbaglio però non ho esperienza mi serviva un escamotaggio per tirar fuori infatti non volevo non mi concentrare anche perché ho fatto un film sull'algoritmo e da un anno che parla di algoritmi non volevo ritirare fuori la storia voi che siete nell'altra aula non è prevista che voi fate no se hanno delle storie d'amore particolarmente bizzarre possono venire qua sì però già è imbarazzante alzarsi la mano e parlare tutto il giro dove ho sentito no l'ho letto in un sito adesso non mi ricordo più che hanno chiesto come hanno fatto la parodi e caressa era un'intervista alla parodi e hanno chiesto come hanno fatto far durare la loro storia d'amore 23 anni 23 anni tre figli eccetera e lei dice abbiamo fatto il patto del pigiama che io non l'avevo mai sentito sono andata avanti a leggere se no avrei già smesso il patto del pigiama consiste nel fatto che tu non ti fai mai vedere in pigiama per casa né tu parodi né tu caressa né neanche con la tuta cioè devi avere sempre una certa personalina una certa cura non ti slandri a casa neanche a te non ti slandri non ti slandri questo termine inglese è piemontese torinese che poi arrivi a casa ti cammi stai con che però se non lo fai il patto del pigiama con l'elastico mole segni delle ginocchia ti muovi e fai le scintille quello era bene i pigiami a casa quindi lì a cril con i rombi con la camigliera e la polsiera quella roba lì che sembri un macchino a pepe da pizzeria ecco a casa parodi caressa quella roba lì non c'è vestiti da gala eh sì lei col tailleur e con lui con e se non te funziona e allora ho 23 anni ad occhio tu non l'hai mai adottato adesso dicono che c'è la moda di goblin goblin come si chiama quelle specie di elfi mostri che sono tutti brutti e la moda è quella lì adesso cioè siccome fa freddo non possiamo accendere tanto il riscaldamento quindi stiamo a casa e ci vestiamo e diventiamo quei mostri tutti vestiti insomma tipo da elfi tra l'altro una cosa che voglio dirti che mi ha fatto più ridere di tutte sono i ringraziamenti finali io vorrei capire se queste persone esistono nella vita o sono veramente degli elfi dei boschi perché lui fa il ringraziamento finale e mi dice ringrazio mao Garosi segno sensi carina cannell luisa giulita che caccia di nomi sono effettivamente leggendo uno dopo l'altro sono strani non ci avevo pensato ma chi è sta gente no perché mao è maurizio che io ho detto ma come ti ringrazio mi chiamano mao è uno di siena perché c'è tutta una consulenza che se sbagli a siena ti menano ti invitano segno sensi lo so si chiama così è un altro grande esperto del palio carin annel è una ragazza che lavora alla wild side della casa di produzione di producimi film che è svedese quindi per il capitolo svedese ho detto ok lisa giulita e lo so e poi chiara agagiu agagiu che è una mia amica di lecce che mi ha detto due cose che era questa una che poi non ho messo e l'altra che mi ha detto mi ha illuminato perché mi sono rivisto e che ha detto che il problema è che noi viviamo le storie d'amore come come un problema e che effettivamente ho detto cazzo non è vero e non è però ti sei dimenticata la mia dedica a chi ho dedicato il libro ah sì alla come si chiama alla cantante come come si chiama Carmen Consoli Carmen Consoli io ho scritto questo libro solo per dedicare il libro perché voglio che tutto il mondo sappia il mio amore per Carmen Consoli il mio amore è sessuale ma tu la conosci intellettuale tutto ma lei è anche sposata lei dice che ma non lo so neanche non lo vuoi sapere perché come dice come dice non mi ricordo quale citazione l'amore eterno è giusto che ti rimanga eterno nel mondo nei secoli ma non sa neanche le cose Carmen Consoli la prima volta la mia passione nasce tanti anni fa e qui io Torino l'ho conosciuta perché MTV faceva gli MTV Day anche lei in coda insieme alla tua fidanzata no lei è una delle mie sette anime gemelle ok io la conoscevo il mio desiderio di conoscere era tanto ma mi imbarazzava tanto e quindi passava l'MTV Day qua a Torino e io facevo così così e lì mi ricordo che mi guardavo e mi dice ma chi è questo cretino poi la vita anche qui Santi Bulvirenti il musicista dei miei film è stato per anni chitarrista suo di Carmen Consoli quindi ci sono conosciuti a un concerto e lì è nata la scintilla perché lui ha detto lei Carmen ha detto a Santi ah guarda che sei venuto e con chi sei venuto un bellissimo palermitano che poi ha detto a Mancatenese è già un e da lì è nata la nostra passione quest'estate sono andato a un solo concerto in Sicilia ci siamo fatti c'era la direttrice di Elle credo io ho chiesto di fare una foto assieme a Carmen lo abbracciato c'è una foto che è uscita dove Carmen con un cagnolino io tipo così le mie carezze è una foto in cui ci baciamo sì ci baciamo credo che poi Carmen Consoli abbia chiamato la direttrice c'è col cazzo che fa uscire questa effettivamente scusate l'espressione e non è mai uscita però a parte questa è perché io secondo me rappresenta al meglio la sicilianità sì cioè proprio è perché è moderna poi ha talento ha talento e poi usa il dialetto femmina è bella femmina molto femmina Carmen Consoli e quindi io sono fiero quando penso di essere corregionale Carmen Consoli io dico sono felice perché una terra disgraziata per i versi della Sicilia avere una come Carmen Consoli io la rimetto al livello di dei grandi siciliani cioè quando quando non voglio farlo in maniera funebre però quando muore un grande siciliano ho bisogno di altri quando è morto Camillere ha detto adesso come si fa quando è morto combattiata adesso e adesso però la realtà che la vita continua e insomma quindi io finiamo con queste note di moderato ottimismo infatti no no non volevo farla però insomma anche Fiorello insomma ci sono no poi lo capisco non voglio fare la fierezza però la Sicilia veramente combattiamo contro i cliché continuamente in parte ci meritiamo certo e appena una volta che c'è una persona così grande intellettualmente poi ho detto che non l'avrei mai consumato perché è un amore che non si deve consumare su questo punto posso anche ricambiare idea cioè nel senso di Carmen no ma secondo me lei anche lei non vuole consumarlo no no proprio l'ha detto proprio subito però io l'ho dichiarato da Fazio che è un programma che va su i3 che è il tempo che fa e lei mi ha scritto no che ci siamo visti domenica da Fabio e che sto stupido mi fa ma no mi presenti il libro e gli ho detto sì certo e ci mancherebbe che non mi avevo presentato io te l'ho presentato quando sei venuto a Palermo scusa ero pronto a rifacciato se mi avessi detto non lo fa assolutamente io l'ho fatto insomma lei mi ha scritto Carmen che credo sia in Sud America mi ha detto era saputo che tutti l'hanno scritto e ha detto è tutto ricambiato dai 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 ho sms qua ve lo posso far vedere se apre una porta ci lo so ma non lo so ma in realtà non la voglio consumare perché mi dovesse un amore ma tu non ti preoccupare che non credo che lei tu stai sereno proprio ma adesso cosa fai un altro film adesso faccio sto preparando il puntato di Caro Marziano che è un vabbè potevi fingere di conoscere che già l'ho fatto una volta l'hai fatto? non l'ho mai vista ah ma certo che bello aspettavi bellissimo no in realtà il testimone il testimone lo conosci è una versione short del testimone tutti gli argomenti che non riuscivo ad affrontare perché non si meritava una puntata troppo lunga ho detto facciamo solo che a giugno il nostro agente mi ha chiamato e dice 50 puntate da fare e io a giugno ma sì ma figurati se non le facciamo perché ti sembra è come quando dico ma vuoi venire a Pinco Pallo a parlare quando? fra un anno e mezzo ma sì poi arriva dopo un anno e mezzo e dice ma perché lo fa? e quindi quindi mi sto sbattendo perché faccio vado promozione del libro caro Marziano passo da da una cosa all'altra a un certo punto farò interviste e dirò ma allora sto libro di povero idiota conferma tutta una crasi e poi subito tipo per farti capire nella mia vita ero a Treviso perché c'era il festival mondiale del tiramisù dovevo andare a Rimini quindi avrei fatto Treviso Bologna Rimini però da un buon padre e io lo rinfaccerò tutto fatto Treviso quando sarà in convento esatto quando sarà in convento dietro alla grata Treviso Bologna Bologna Torino perché Torino è bella però un po' camiseria perché dice a Milano e poi Torino un'altra ora poi da dormo con lei la compagno a scuola sperando che non faccia troppo storia e poi prendo un treno e faccio Torino Bologna Bologna Rimini e poi insomma la vita è difficile fare il padre è difficile io prendo vabbè io prendo ormai il treno Portasusa ormai mi conoscono capi treni e pif in anno del 5 ormai sono sono un azionista c'è l'app della mia dei treni d'Italia che c'è la platina e poi la carta pif perché la carta però in treno leggi no leggi però insomma che ho 50 anni comincia a essere faticoso mi sono rovinato infatti ho 48 anni un figlio perché ti sono rovinato dall'adolescenza non lo so un colpo di follia va bene va bene senti avete delle domande ancora da fare a sto balengo qua voi di là non ci interessa siete uomini di Seribi siete va bene allora ti ringraziamo grazie a te Luciana è sempre un piacere averti a che fare con te per la disperata ricerca d'amore di un povero idiota costa 18 euro grazie grazie mille grazie